Per studenti e lavoratori pendolari che ogni mattina devono raggiungere Chiavenna con il treno ci sono buone notizie. Dopo i pesanti disagi vissuti in queste settimane a causa dei posti disponibili limitati nel rispetto delle misure anti-covid, grazie all'interessamento della prefettura di Sondrio, Trenord ha stabilito che oltre al treno delle 7.06 Colico Chiavenna, che trasporta circa 230 persone e la corsa bus non sufficiente a rispondere all'esigenza di trasporto di tutti i pendolari, per servire i viaggiatori delle ultime stazioni della tratta verrà messo in strada un altro pullman. Questa sarà una soluzione temporanea, informa la prefettura secondo quanto spiegato da Trenord. Infatti entro il mese di settembre ci saranno le autorizzazioni per mettere in azione sulla tratta ferroviaria il nuovo treno Donizetti con una capienza di 350 posti.